Ti do il benvenuto su Espresso, la rubrica di pensieri in codice in cui ci beviamo insieme un caffè ed io ti racconto di un libro, di un gadget, di un videogame o di qualsiasi altra cosa che mi ha colpito e che sono sicuro piacerà anche a te. Al termine dell'episodio, se riterrai che ti abbia dato un buon consiglio e vorrai offrire tu il prossimo caffè, potrai farlo acquistando dal link affiliato che trovi in descrizione o addirittura pensando di inviare un piccolo contributo per supportare il progetto. Trovi tutti i dettagli sul sito pensierincodice.it con due i. Per questo episodio di Espresso ho pensato di provare un po' a cambiare argomento e quindi oggi su Pensieri in codice non si parlerà di informatica, tuttavia si parlerà sempre di libri perché tra le tante cose che io sperimento ogni giorno trovo che i libri siano uno strumento fondamentale per migliorare se stessi. Con questo non intendo certo dire che snobbo gli articoli sul web o i video o i podcast ci mancherebbe e apprezzo anche guardare un po' la tv, un bel film, una bella serie, anche il trash, perché no? Ma in tutto questo trovo che la lettura del classico libro, e classico non intendo certo di carta per forza, vanno bene anche gli ebook, dipende da come sei abituato, sia però un momento del tutto diverso. Che lo si faccia con lo scopo di imparare qualcosa o di intrattenersi o per qualunque altro motivo. Il libro, secondo me, ha il potere di catturare totalmente la concentrazione. Ovviamente se si tratta di un bel libro, uno che ci piace, che magari è scritto bene, e così facendo ci aiuta ad allenare questa attenzione, ci spinge alla riflessione, ci concede un po' di tempo da soli con noi stessi, che pur se può sembrare banale, in effetti si tratta di momenti che ormai sono diventati piuttosto rari, almeno per me. Quindi quello che farò oggi sarà parlarti di quattro libri che hanno poco o niente a che fare con l'informatica, ma che io personalmente ho trovato molto interessanti e ho letto con estremo piacere. E giusto per essere trasparente, voglio anche chiarire che li ho selezionati in base ad un unico semplice criterio. Sono quattro libri che, quando magari ero intento a fare altro, a lavorare, a guardare la tv o fare delle commissioni, mi tornavano continuamente in mente. E nella mia testa pensavo a completare più in fretta possibile l'attività che stavo svolgendo per concedermi qualche minuto di lettura. Dunque, tenendo a mente tutto questo, iniziamo. E iniziamo dai due più leggeri. Si tratta di due romanzi dello stesso autore, Stuart Tarton, spero si pronunci così, il quale, per quanto io ne so, ha scritto solo questi due libri, ma io li ho adorati entrambi. Il primo si intitola Le sette morti di Evelyn R. Castle, ed è una specie di thriller con elementi soprannaturali la cui storia si svolge interamente in una villa isolata e ruota intorno all'indagine da parte del protagonista sull'omicidio appunto di questa Evelyn R. Castle. Il secondo libro, invece, completamente slegato dal primo, si intitola Il diavolo e l'acqua scura e racconta la storia di un omicidio e della relativa indagine svolte durante una attraversata in alto mare a bordo di una nave mercantile della prima metà del 1600. Purtroppo, secondo me, entrambi questi libri hanno come punto di forza proprio il mistero che aliggia per quasi tutto lo svolgimento della storia e quindi qualsiasi cosa mi venga in mente di raccontarti in questo momento potrebbe anche rovinarti la lettura dell'intero libro. Quindi provo a invogliarti proprio non dicendoti nulla sulla storia. Per quella che è stata la mia esperienza si è trattato di due libri pieni di colpi di scena che venivano fuori di pagina in pagina, con un ritmo narrativo veloce e avvincente che in questo modo non ristagnava mai e non diventava mai noioso e un continuo oscillare tra eventi mistici e terreni, con la conclusione di due finali che posso solo dirti che o si amano o si odiano. Seriamente parlando, non posso e non voglio dirti altro. Però ti dico solo che se quest'anno hai intenzione di leggere un solo romanzo, beh ti consiglio di scegliere tra uno di questi due e sono sicuro che non te ne pentirai. Detto questo passiamo ad un altro libro che è sempre un romanzo ma stavolta di tutt'altra natura. Si tratta di un libro in realtà molto vecchio che forse avrai già sentito, addirittura avrai anche già letto, ma per me resta sempre un libro stupendo da leggere almeno una volta nella vita e si intitola Lo Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta, di Robert Piercing. Questo romanzo parla di un argomento forse ormai superato, ma non è un gran problema perché quello che lo rende secondo me un capolavoro è il modo in cui è scritto. Non tratta di grandi avvenimenti, grandi avventure al limite dell'impossibile o cose del genere. Semplicemente racconta il viaggio di un uomo e di suo figlio preadolescente attraverso gli Stati Uniti degli anni 70 a bordo di una motocicletta. Durante il viaggio padre e figlio affrontano tematiche spesso anche molto alte, esplorando il proprio rapporto e nel caso del padre barra autore barra narratore anche il proprio passato. Oltre ad essere una storia molto toccante, dove alla fine si scoprono tante cose che fanno tanto riflettere, il libro in sé è scritto in maniera magistrale. Quando Piercing descrive i momenti del viaggio è letteralmente in grado di trasmettere sensazioni e panorami come se il lettore fosse lì, a bordo della motocicletta. E quando invece riflette sulla propria vita ed il rapporto con la famiglia, su problemi più o meno comuni che ha dovuto affrontare, suscita un'empatia che ti spinge a voler sapere cosa sia accaduto di volta in volta, flashback dopo flashback, così fino alla fine del libro. Inoltre, la cosa che più mi ha colpito di questo romanzo è stata la capacità del suo autore di letteralmente trasmettermi tranquillità e rilassarmi. Io al mattino appena sveglio ne leggevo qualche pagina e dopo mezz'ora mi sentivo sereno e pronto ad affrontare la giornata, cosa davvero fantastica. Infine, l'ultimo libro che ti voglio consigliare oggi è di Riccardo Dalferro, anche conosciuto come Rick Duferre e si intitola L'elogio dell'idiozia. Da poco è uscita la nuova edizione e io ce l'ho anche in libreria, ma per ora ho letto solo la prima e quindi le mie parole faranno riferimento ad essa. Si tratta di un saggio nel quale Rick esplora in lungo ed in largo il concetto di idiota e la sua natura, diciamo così, relativa. L'idiozia è tale perché va contro il pensiero comune e molto spesso resta tale proprio perché è il pensiero comune quello che poi si rivela corretto, che quindi prende il sopravvento, ma a volte può capitare che qualche idiota di fatto non sia poi così idiota. Magari perché in futuro la storia in qualche modo lo redimerà, è già successo tante volte in passato, oppure perché semplicemente noi e l'idiota di turno partiamo da due presupposti così diversi, ma non per forza uno totalmente corretto e l'altro totalmente sbagliato. Questo libro quindi offre tutta una serie di ragionamenti e spunti che ci aiutano a calarci nei panni dell'idiota che abbiamo di fronte e provare quindi a capire se magari, in fin dei conti, tanto idiota poi non sia. Personalmente, le riflessioni all'interno dell'elogio dell'idiozia mi hanno spinto più volte a guardare con occhi diversi le altre persone, soprattutto quelle con le quali interagisco solo digitalmente, magari attraverso i commenti dei social network, i tweet, le email, eccetera. Insomma, se sei alla ricerca di un punto di vista diverso sull'idiota che hai di fronte e che ti aiuti, a tua volta, a non fare la figura dell'idiota agli occhi degli altri, probabilmente questo è il libro da cui partire. Bene, spero di averti incuriosito con questi quattro libri, anche se parlano di argomenti completamente stranei all'informatica. Però sai che c'è? Io sono convinto che a volte faccia bene dedicarsi a qualcosa di diverso dal solito. Aiuta ad aprire la mente, a rilassarsi e magari a divagare un po'. Tu, dal canto tuo, fammi sapere se ti ho convinto, se decidi di seguire qualcuno di questi consigli e se ti fa piacere che ogni tanto ti parli di qualcosa di diverso dall'informatica. Io quindi per oggi ti auguro una buona lettura, ti do appuntamento al prossimo episodio di Pensieri in Codice e ti ricordo che un informatico risolve problemi, a volte, anche usando il computer.